Se oggi sono qui con Marco24 a fare un nuovissimo video, allora, cominciamo, allora, metto Leon, ovviamente questo qua ho fatto un video del bug, quindi è la trovata adesso il bug, ok, ora andremo a fare con Carly, cioè Marco, mio amico, e ora lui, io e lui giocheremo insieme, quindi gli scrivo, allora, allora, dico, lascialo ok, ora andremo a fare questo, maledetta partita, ok, ora gioco in singolo, ok, raga, ok, ora giochiamo, bene, tranquilli, senza fissiati, andiamo, allora, ho cominciato questa partita, Leon, questo Leonina, Leonina, Pizzellina, allora, allora, ora andremo a fare questa maledetta partita, che ho dovuto perderla, ok, ora andremo a fare questa partita, ok, Leonina, bene, prima legionale su quattro, eh, quindi, davvero tantissimi, nooo, oi, 8 bit, oi, non va a toccare 8 bit, allora, prendiamo questa cassetta, ce l'andiamo subito, è morto sotto 8 bit, guarda, ci vado male, per lui, quindi, ora, dovrei, cosa dovi fare, andare a prendere quel power up, mi consiglio? no, 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 mi consiglio, ok, allora, sì, l'avevo consigliata, sì, però, stiamo qua, per caso, non ha risposto, ok, ora, oi, non c'è una tara, ancora non c'è nessuno, ui, dai, taletta, ti ammazzo in due, eh, cosa c'è scritto? leone, vgf, ora, ti ammazzo per questo, perché c'è, non devi insultare, eh, scusa, non ti dovevo attaccare, però tu non devi insultare a leone, perché ti ammazzo, ok, quarto, cioè, quinto, sì, vabbè, quinto, più cinque trofei, allora, andiamo a fare questa partita e poi chiudiamo in bellezza con una bella niente, ok, andiamo a fare questa cosa mi hanno bene i cannelloni Marco, di cannelloni ti mangi? no, di nuovo i cannelloni no e che vuoi? puoi compri una bezzetta? ti mangi una bezzetta? una bezzetta compri un po' perché è che te la bezzetta? dove? che ne so, qua, dalla vecchia ucraia se devo andare in un posto lontano, non ne comprare proprio e ti mangi quello che c'è a casa? ti mangi un cannellone? dov'è, scusa, dove la vendi? a forno, gioia, a me vado qua, va buono angolo e angoloso angolo e angoloso, da, non mi piace la bezzetta no, ma no, Marco, perché no? buona è, e altro buonissima è qua buona ho vinto un arancino a posto della pizza un arancino quanto costa una pizza? una e una una un trancio, ha detto che non vuole un trancio, Marco quanto c'è? mamma, scende anche tu, io sto qua con Martina mamma, scende anche tu no, no, perché devo scendere, io, amore allora stai zitto un secondo amore, però la mamma dai, che devo giustare la zitta eh, veramente, Marco, sei tantissimo maleducato, vedi che lo dice pure Martina ma Marco, non ne ha, non si disturba, mamma ma Marco, ogni tre secondi, non ne va a video e a casa ti metti nella tua stanzetta chiudi la porta dici, io sto facendo video, non entrate ma se c'entra lo stesso, no, mamma non è il tuo telefono quello, Marco? sì, te lo basta, non te lo do e mia nonna ha connessione, papà, non me la mette in bordo te la metto io, dai, dagli il telefono alla mamma ti metto io la connessione, dai guarda, io c'entro il router